E' possibile che dopo pochi mesi passerà anche la legge alla quale saremo costretti a rinunciare al nostro posto di lavoro. Una copertura che poi è limitata, perché la vaccinazione comunque sia è limitata. E' una sperimentazione che durerà tre anni, questa è una sperimentazione sulla popolazione intera, che è un assurdo di per sé. Quindi io non voglio vaccinare né me né possibilmente altri parenti, magari molto più giovani di me. E' una questione di giustizia, è una questione di umanità. Diciamo semplicemente che questa situazione sanitaria, questa emergenza sanitaria che dura ormai da quasi due anni, non può essere più. Loro tentano di dividerci, perché Gesù ha detto ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, solamente amando anche chi la pensa in modo diverso da noi, allora noi potremo vincere questa battaglia. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.